Grazie Marzia Allora Ci tengo a dire una cosa Mi è stato fatto un complimento su Whatsapp Adesso, da una persona qua Comunque, tutto quello che io vi sto dicendo È anche frutto di tanti insegnamenti vissuti E di tanti sbagli commessi Quindi, quello che vi dico Sì, ho sbagliato anch'io Quindi, veramente è proprio frutto Di un cuore più che di una tecnica Perché non sarà la tecnica a coinvolgere le persone Ma sarà il cuore L'ultima parte, appunto, è la quarta E si intitola Come formare una forte alleanza nella relazione Ok, adesso Questa è l'ultima parte Quindi ancora un po' poi andiamo a mangiare Dura solo una mezz'oretta Ma è imprescindibile Allora Il rapporto L'attaccamento La relazione Che tu instauri Con la persona che ti sta davanti Sarà fondamentale Se quel legame non c'è Tu non hai potere di parlare nella sua vita Ad aiutarli Dipendendo al livello In cui scende la relazione In Dio, ovviamente Quello sarà il livello Alla quale tu potrai ministrare ai loro dolori Se loro ti parleranno con il loro cuore di plastica Avrai accesso al loro cuore di plastica Se loro ti parleranno dalla profondità Del loro cuore umano Ferito Confuso E sbagliato E sporco E sporco Se tu non lo sai accogliere O meglio Se tu lo sai accogliere È proprio a quella profondità Alla quale potrai mettere il balsamo di Dio La grazia di Dio Quindi Come prima cosa Dobbiamo tenere in mente Che per formare una forte alleanza Da parte nostra Ci deve essere l'altruismo Quando la persona ci chiama Quando la persona ci sta davanti Noi dobbiamo imparare a stare Zitti Zitti Perché della tua vita Tu ne puoi parlare con altri Capisci? Quando loro vengono da te Il tuo altruismo Deve essere per loro Loro sono i protagonisti Loro sono il centro Delle tue attenzioni Abbiamo un'ora? Di cosa vuoi parlarmi? Non sei tu a dettare Dove lo vuoi portare Almeno che non hai qualcosa da dirgli Da parte di Dio Questo è diverso E anche dopo che l'hai detto Lascia a lui La possibilità di esprimersi Quindi È loro il tempo È per loro È per il loro cuore È il loro il tempo Il loro cuore I loro bisogni Le loro preoccupazioni I loro desideri Le loro paure Tu Anche se hai avuto Una giornata difficile Ti metti da parte E impari Ad avere un amore Altruista L'amore Da Quindi Ti metti da parte Non scarichi Le tue anze Le tue cose Sulla persona Che ti sta davanti Ma Sei pronto Ascolti Sei Ti fai anche Guidare Da loro Io Una volta ho avuto Un'esperienza Veramente incredibile Avevo imparato questo Di Avevo imparato Di Seguire Per andare Dove le persone Reputano Che per loro È importante Perché magari tu pensi Io voglio parlargli di questo No Una volta Volevo parlare A una A una A una ragazza Di Di un suo rapporto Con questo ragazzo No Che la cosa Non c'erano Delle cose Che non quadravano Volevo affrontare Questa cosa Ci sediamo Io Nel rispetto Suo Li lascio Le briglie Questa persona Inizia a parlare Del lavoro Delle cose Delle cose E parte Per tipo Quasi 40 minuti Su altre cose Che non c'entravano Niente E io Diana zitta Il rispetto Suo Forse questo Per lei È più importante Oggi Non c'è Io sono qua Per servirti Non devi andare tu Dove voglio io Io sono qua Per seguire te Per servirti Nei tuoi bisogni Dopo 40 minuti Si mette A piangere Sul Sul suo fatto Del lavoro Questo pianto Li apre il cuore Cambia discorso Ed un tratto fa Ma sai che ti volevo Parlare di questa Mia relazione Ho detto Vai Grande che non l'hai Interrotta Nel ventesimo minuto Vai così Stai imparando Ok E quindi Se Al quarantesimo minuto Insomma Alla fine del primo tempo No Alla scadenza Dei 45 minuti Se Se è aperta E lei E lei Mi ha portato Dove anche Il suo cuore Li faceva male Ed aveva confusione Quindi Io E io A quel punto Ho potuto Ascoltare Tutto E poi Relazionarmi Io vi dico una cosa Sapete che la gente No È più intelligente Di quello che penso Che tante persone Pensano Ok Cioè Tante volte Le persone Ci arrivano da sole A capire le cose Non è Ogni volta che devi Pallesare Ci arrivano Tu li lasci ragionare Il mio più grande Complimento Che potrebbero mai fare A me Alla mia persona Sarebbe Se mi potessero dire Pastore Diana Quando sono con te Mi sento libera Di essere me stessa Ma proprio anche Che se mi Dovesse scappare la parolaccia So che Stai lì A metterti le mani Capito Capito Cioè So che ti potrei dire Qualsiasi cosa Io con te Sono a casa Sono tranquilla Non mi sento giudicata Capito Quindi Loro stessi Nei loro ragionamenti Nei loro sbagli Hanno lo spirito santo Abbiamo anche fiducia Del processo Che sta succedendo Dentro di loro Non sempre noi Per mettere in mano E modificarlo Ma a volte Accompagnarli Guardarli Dargli la possibilità Qualche volta Noi facciamo da specchio Ok Quindi tu mi stai dicendo Che questa cosa per te È difficile Non sai come E non sai che cosa Decidere Spesso quando portano Delle tematiche Ah io non so se Andare in Australia O restare In Italia Per la mia fidanzata È un esempio Così a caso Che Personalmente Non siamo tenuti Ah sì sì Devi andare in Australia No 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 Devi restare in Italia Perché c'è la tua fidanzata No non è così Devi permettere All'altra persona Di Elaborarsi Per capire Per la persona stessa Quale conclusione Vuole tirare Per la sua vita Adesso Non stiamo parlando Di una persona Che viene da noi E ci dice Che faccio Vado con quell'uomo sposato O non ci vado Allora in quel momento Intervieni E dici Guarda La parola di Dio Dice Che non ci dovresti andare Sappi però Che la mia porta È sempre aperta In tutti i casi Se tornerai Dopo due anni Che hai picchiato A destra A sinistra Sanguinante Io ti raccolgo Io sono sempre qui Al di là Delle scelte che fai tu Sappi però Che Dio ti sta consigliando A non andare In quella direzione Benissimo La maggior parte Di noi Arriverà Alla conclusione Della propria vita E siamo noi A dover Seguire Ad accompagnare Loro Quindi noi Li diamo La possibilità Anche di riflettere A voce alta Quando stanno Parlando con te Stanno anche Parlando con loro stessi E tu Qui E lì Guidata Dallo spirito Di Dio Potrai Dargli La luce Della parola Se questo comporta Che c'è Se c'è bisogno Che tu lo faccia No? E quindi loro Si gestiscono Soprattutto Da soli Però Sanno Che da questa parte C'è una persona Che comunque Dirà sempre La verità E li sostiene Nel bene Nel male Benissimo Consigli pratici Per quando Uno è insieme Ricordando Che l'altro È sempre Al centro Dell'attenzione Allenati Ad ascoltare In silenzio La maggior parte Di noi Tagliano Alla prima Ah sai Volevo dirti Che mia mamma Ah sì No Perché sai Cosa succede Ti rubano La parola E partono Parlano Mezz'ora Loro Ti ridanno La parola Ti manca Un quarto d'ora Devi andare A lavoro E non hai Potuto Aver la chance Di esprimerti Quindi In silenzio Li lasci parlare Ovvio Se la persona È prolissa E sai Che ti terrà Tre ore Magari Dici Guarda Io ho un'ora Di tempo Gestisciti Come tu desideri Così Uno L'insegna Anche Poi A piano piano A formattarsi E a concentrare I propri pensieri Due Prega Dentro di te Per chi sa pregare In altre lingue Prega Parli delle altre cose Guida Dello spirito santo Sarà la cosa Più efficace Numero Tre Ripeti È importante Appunto Poter ripetere Alla persona Ciò che tu hai Capito Perché magari Tu stai capendo Roma per Toma Allora magari Li ripeti Senti ma tu mi stai dicendo Che la tua difficoltà Sta nel rapporto Con tuo marito E magari Magari quella Ti risponde No guarda Io in effetti La mia difficoltà È nel rifiuto Che io percepisco Da mio marito Due cose Interamente diverse Cioè due direzioni Di preghiere Completamente diverse Quindi dobbiamo Ascoltare Poi Solo dopo Che la persona Ha finito Di esporre Tutto il suo cuore Capirai al meglio Come servirli Ecco Questo è Imprescindibile Non prendiamo Per scontato Che la persona Voglia un consiglio Da te Quando loro Vengono Quando sono con te Tu devi capire Ma Di cosa hanno bisogno E Se non l'hai capito tu Se non l'hai intuito E non c'è problema Se non l'hai intuito Ci si affina Col tempo Li chiedi Ok Ok Li dici Guarda Hai parlato Di tante cose Tu Cosa vorresti Io cosa posso fare Per te Magari la persona Ti dirà Non ho bisogno Di un consiglio Mi dai un abbraccio Tu l'abbracci Altre ti diranno Ho proprio bisogno Di un consiglio Altre ti diranno Non ho bisogno Di un consiglio Non ho bisogno Di un abbraccio Volevo solo qualcuno Con la quale condividere A quel punto Tu devi per forza Dare un consiglio Perché sei il capocellula Non lo dai Perché Ritorna sulla prepotenza Spirituale Che tu gli devi far vedere Che tu sai tutto Sulla Bibbia Di questo soggetto Che loro ti hanno esposto E chi Se ne importa Chi Non importa Quindi Assolutamente Chiedere A loro E dargli Ciò Di cui Hanno bisogno Due Amore incondizionato Ok Questo è semplice Che lo capiamo In Dio L'amore incondizionato Però io vi voglio parlare Di una sfaccettatura Con la quale Tutti possiamo Migliorarci Ed è La gestione Delle emozioni Altrui Scatta il panico In certe persone Quando la persona davanti Si mette a piangere Il panico Non sanno come gestire La situazione Giusto Vi è mai capitato Che qualcuno Magari tu stai piangendo Lo vedi È spiazzato Il panico dentro Ok Adesso È una delle cose Più importanti Saper gestire Le emozioni Degli altri A monte C'è questo Se tu non sai Gestire E accogliere E amare E comprendere E accompagnare Le tue emozioni Non potrai fare Le stesse cose Con le emozioni Altrui Quindi io prima di tutto Dico a tutti noi Impariamo a gestire Noi Vedete La maggior parte Di persone Soprattutto i maschietti Quando erano piccoli È la cosa peggiore Che i genitori Possono fare È che quando il bambino O bambina Piange Smetti di piangere Ah come se Non sei mica un bambino Quello poi È proprio un bambino Capito Cosa succede Smetti di piangere Smetti di piangere Smetti di piangere Durezza 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 D'un tratto Cosa succede Cresce In Dio Dio inizia a toccare cose importanti Nel suo cuore Si espone Con coraggio Apre il cuore È ovvio Che gli viene da piangere Perché tutti noi Sappiamo Che le cose dolorose Sono dolorose Perché sono dolorose Trova il coraggio Di aprire il cuore Si espone Piangendo Cosa fai il capocello Smetti di piangere Dai non essere un bambino Sei un uomo di Dio Adesso sei Cioè tu sei qui Fai parte dell'esercito Cioè Mi sembra di sentire mio padre Cioè io non avrò mai la chance Di buttare fuori Il sangue sporco Perché quello è Allora tu stai volendo Fasciare la mia ferita Alla buona E io no Cioè Lasciami piangere Cioè ma dov'è il problema Cioè dov'è il problema Quindi Le cose che succedono Voglio entrare in dettaglio C'è chi in fondo Sta dicendo amen E non farò nomi E neanche cognomi Allora Le cose peggiori Che possiamo fare Con le emozioni altrui Numero uno Tapparle Vedi un'emozione Che sale Vedi gli occhi lucidi Ah no 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 Ma guarda che Comunque Sì dai Non ti preoccupare Andrà tutto ok Tutto a posto Delle tappi Subito Bloccato Non arrivi da nessuna parte Perché Cioè ritornerà Cioè Numero due Peggior cose Che si può fare Uno Tapparle Due De riderle Ma tu stai piangendo Ma guarda Ma che c'hai Trent'anni Ancora a piangere Stai E li Rid in faccia Ma stiamo scherzando Ma sapete Perché li Rid in faccia Perché la verità È che tu Non sai gestire Le sue emozioni Sei tu a disagio E allora vuoi Che loro smettano Perché Non li sai Gestire Perché Perché non sai Gestire le tue Non ti permetti Di piangere Quando sei a casa Da solo Appena piangi Che cavolo Io non dovrei piangere Io dovrei far Battaglia spirituale Io credo Nella battaglia spirituale Ma c'è un tempo Per ridere Dice Necclesiaste E c'è un tempo Per piangere Allora Permettiamoci Di piangere Per quando Hai tempo Di piangere E non tappiamo E non deridiamo Le emozioni altrui Numero Siete il mio sostegno Sminuirle Ok Sminuirle Ma dai Non è nulla Vabbè Cosa vuoi che sia Ma sai quante ragazze Sono state lasciate Dal ragazzo Dai Piangere Amica Per questo Questo C'è un taglio Da qui a qui È stata tradita È stata abbandonata Vuole un abbraccio E tu No La sminuisci Perché Perché Tutto immondo È stato Ma io non sono Tutto immondo Cioè Ho bisogno che tu Mi stendi una mano Se no Se tu non mi sai Stendere una mano Io Non te la darò più La mia Da guarire Proprio È la base Se tu non ti senti comodo Nell'esporre le ferite Poi non potrai Poi gli altri Non potranno Cioè Se tu non sei comodo Con le ferite altrui Poi non potrai curarle Però poi non lamentarti Giusto? Ok Numero 4 Giudicarle Non ti devi arrabbiare Non è da Dio Una Un'emozione di rabbia Perché magari ha subito Delle cose Che non doveva Io sai cosa dico Arrabbiati pure Vuoi dare un calcio Qualcosa Cioè tranquilla Qualche volta La rabbia Si incanala qui Cioè si blocca qua Ti rovina la vita Qualche volta Quando riusciamo A farla uscire In maniera sana Guariamo Senza neanche Altri consigli Quindi Però non gli andiamo Ah sai che arrabbiarsi Non è da Dio? Ah cosa Ah ma sai che la paura Non è da Dio? Quindi Non giudicarla Quinta Fregartene La peggior cosa È Quello Ti sta esponendo Il suo cuore Te ne freghi Ah si vabbè Vabbè si Comunque stavi dicendo Che tua mamma Poi ieri L'ha fatta La spesa Vero? Scusami Cioè Mi vedi C'ho gli occhi lucidi Ti sto dicendo Che ieri Qualcuno mi ha fatto male E tu Cambi discorso E mi dici Che mia mamma Te ne stai fregando Te ne freghi Delle mie emozioni Te ne freghi Del mio cuore Questo è quello Che passa Allora Il cuore delle persone Sono Sono È prezioso Altre cose che non dobbiamo fare Non dobbiamo infastidirci Non dobbiamo irrigidirci Non dobbiamo cambiare discorso Non dobbiamo portare su un altro tema Non dobbiamo far tacere la persona Vai Basta tutto Zitto Basta Non bisogna rifiutare Le sue emozioni Bisogna accogliere Imparare E Accoglierle E imparare A gestirle Giovanni 11 35 Oh questo io lo dedico Come l'osca Io questo lo dedico A ogni persona Che fa fatica Con le emozioni altrui Giovanni 11 35 Gesù Pianse Ok? Poi se tu vuoi essere Più spirituale di Gesù A me E' vero Numero 3 Categoria grande Rifugio Noi dobbiamo essere un rifugio Che ore sono? Ah Dobbiamo essere un rifugio Siete ancora con me? Perfetto Ok Un rifugio All'epoca le pecore si mettevano nell'ovile C'era un recinto Un muretto E il pastore si diceva in una tradizione L'ho letto nella Bibbia Che il pastore si sdraiava E faceva la porta delle pecore In Giovanni 10 17 Infatti dice Perciò Gesù di nuovo Disse loro In verità vi dico Io sono la porta Delle pecore Io sono la porta delle pecore Allora Noi Negli altri In Dio E poi in noi Perché verranno e troveranno noi Anche se stanno cercando Dio Devono trovare un rifugio Prima di tutto Un rifugio emotivo Nella quale Accogliamo Qualsiasi cosa Vorranno esporci Un giorno sono arrabbiati Bene L'altro giorno sono felici Bene L'altro giorno sono infastiditi Bene L'altro giorno non voglio di piangere Bene Vieni come sei Portami quello che hai E poi Davanti a Dio Dio farà qualcosa per te Io ci sono Fai quello che Tu esponimi ciò che desideri Sono qua per te E ti amo Al di là di tutti i consigli Che ti potrò dare E vi dico una cosa Questo io l'ho imparato L'ho imparato col tempo Quando tu ti relazioni con qualcuno Fra una persona Che ti sa dare buoni consigli E una persona Che ti sa amare Alla fine Andrai verso quella Che ti sa amare Più Che quella che ti dà La profezia La parola I buoni consigli Una cosa non esclude L'altra Ma l'amore Trascina Quindi Rifugio emotivo Due Un rifugio silenzioso E segreto In proverbi Undici Tredici Dice Chi va sparlando Svela i segreti Ma chi ha lo spirito leale Tiene celata La cosa Ok Ovvio Se vengono da noi E si confidano Su certe cose importanti Della loro vita Ecco Non deve essere Di dominio Della chiesa Sinceramente Non deve essere Di dominio A nessuno A nessuno A nessuno Cioè Io Io Personalmente Se è una cosa Di minore entità Che sì Quello è venuto a parlare Condivido anche Con mio marito così Ma per me Se per esempio Qualche ragazza Così è venuta a dirmi Di cose che loro Hanno subito Io non lo dico Neanche a mio marito Cioè non c'è bisogno Almeno che Lui non abbia in cura Questa persona Però se ce l'ha in cura Andrà da lui Quindi Cioè Però se è in mia cura Solo per dire Per dire Non Io non lo dico Cioè Preferisco E ti dico Tutti sicuramente Un qualche sbaglio Nella nostra Poi Pastore Dario Parlerà meglio Di questo Sul fatto di essere Uno scrigno sicuro Io credo che si può crescere In questo Nell'essere sempre Io sono cresciuta in questo Per esempio Nell'essere sempre più Basta Finisce qua È chiuso E Se per caso Tra l'altro Vi scappa Di dire Qualcosa Di qualcuno Ma chiedete perdono In ginocchio Perché quello È il loro cuore È la loro vita Magari Privata Cioè Che cosa c'entra Che tizza E che caia E che sempronio Possono sapere Ma dico Ma veramente È una violenza Ed è un abuso Dell'ufficio Che abbiamo noi Perché è un abuso Perché tu Pretendi Che ti dicano Quindi li obblighi A dirti E poi dopo È di dominio pubblico Eh no Eh no Io ti dico Sei tu nell'errore Non è la persona Che si è aperta con te E sei tu Devi cambiare Devo cambiare Dobbiamo tutti cambiare Si impara Si può essere misericordiosi Anche Un giorno Dio mi ha parlato Mi sentivo male Su me stessa Perché volevo Avevo quella sbarra alta E sapete cosa mi ha detto Dio? Io perdono anche i pastori Sì Mi sentivo male Perché sono un pastore Quindi Certe cose Io perdono anche i pastori È stata Una rivelazione Per me Numero tre Un rifugio Che non ti Si ritorce contro Se una persona Ti ha affidato Un Per esempio Una persona viene E ti dice Ho problemi familiari Ok Tu stai lì Gli ascolti Gli accarezzi Fai tutto giusto Dopo sei mesi Voi entrate in una lite In una discussione Ed un tratto Ha quella stessa Ah ma che ne vuoi sapere tu Tanto tu con tuo marito Fai schi Aspetta Aspetta Evoluzione Ricordiamoci che Nel rapporto Ci sarà un'evoluzione Le persone cambiano Non le dobbiamo etichettare Non le dobbiamo bloccare La persona C'è un evolversi del sé E vi dico in due parole Tanto Sì Ce la faccio In due parole Come una persona cambia Se una persona Ha fallito tanto Nella vita Dentro di sé Avrà scritto Sono un fallito Sono un fallito Giusto Perfetto L'evolversi Della persona Si registrerà Dal momento che inizierà A avere vittorie Ma queste vittorie Tu le devi Fissare Quindi Fa una cosa giusta La deve Fissare La deve celebrare Deve fare qualcosa Perché dentro di lui Possa registrarsi Ah Sono un fallito Però una vittoria L'ho ottenuta Due vittorie L'ho ottenute Tre Cinquanta vittorie Su Allora io Non sono così fallito E inizia a cambiare L'immagine Che ha di sé Ma Queste vittorie Le si deve registrare E tu Come autorità Devi Tu devi aiutare L'altro Credendo in lui A registrare Le sue vittorie Cioè Se una persona Ti porta Un qualcosa di bello E dice Ehi ma sai che io Ho evangelizzato Mio papà No Magari era timido Fino all'altro giorno Lì stavi consigliando Come aprire la bocca Viene da te Bambino No Perché emotivamente Magari c'ha 40 anni Però per te sarà sempre un bambino Bambino E dice Ehi sai che io ho evangelizzato Mio papà Tu cosa fai? Ah ma sai che io invece Ne ho evangelizzato 100 E sono anche andata a predicare E qui e là L'hai distrutto E registrerà un altro fallimento Sai cosa dobbiamo fare? Timido Un tratto Ah io ho evangelizzato mio papà Bravo Bravo Dimmi come l'hai fatto Bravo Che bello Uh Vieni qua Loro vogliono la tua carezza Loro vogliono la tua pacca sulla spalla E gliela devi dare Non li devi far vedere Quanto tu sei bravo Quanto tu sei più forte Quanto tu sei più abile Non è una competizione Quindi tu rafforzi Il loro crescere E loro ad un tratto A questo punto diranno Io ho il coraggio Di parlare ai miei genitori Allora Se ho il coraggio ai miei genitori Domani Andrò in ufficio E quando vengono da te Bravo che sei andato in ufficio Sono con te Dai Dai che vai alla grande Siamo qui per incoraggiare E loro dentro Si sentono forti Perché tu sei dietro le loro spalle Perché ci sei tu Non solo perché c'è Dio Io a volte mi sento forte Perché certe persone Sono dietro di me E lo so E credono in me Capito? Quindi tu non li abbatti Tu li costruisci E tu gli dici bravo E tu gli dai la carezza Di cui hanno bisogno Quindi uno Per evolversi Devi fissare le vittorie Due Tu non devi etichettare Per poter far cambiare L'altra persona Tu non la devi etichettare Ma devi usare Un ascolto attivo Ok? Adesso entro Al massimo Dieci minuti Chiudo E sfalciamo un po' le cose Adesso vediamo L'ascolto attivo Vuol dire Che tu non inscatoli La persona E vi faccio proprio Un esempio Semplice Entrerà qualcuno Da voi E vi dirà Ho problemi Con l'omosessualità La tua mente Piccola Magari In quel momento Se non hai affrontato Questo tema Dirà Ah basta È un omosessuale È un mondo E quindi Tu devi Ascoltare Ciò che ti dice Per entrare Nel suo mondo Soggettivo Perché certi Ti diranno Io mi sento uomo Ma mi piacciono gli uomini Altri Ti diranno Io mi sento una donna Io mi sento una donna Intrappolata in un corpo Di un uomo E mi piacciono gli uomini C'è una differenza Abissale O no? Anche di come preghiamo Quindi non Inscatolare E non giudicare E non Mettere le tue idee Su cose Che Della quale Tu non conosci Neanche Lascia che la persona Ti parli Cerca di capire Il loro mondo E cosa c'è Dietro Il loro mondo Perfetto Numero E quello era L'ascolto attivo Numero 5 L'autenticità Ok In tutti i rapporti Dobbiamo essere autentici Tanto poi ci sgamano Ci sgamano E vi dico una cosa Se voi non volete essere autentici E voi volete Pensare che Siete bravi Perfetti Tutta quella cosa lì E tutti Cosa succederà? Tutti gli altri vedranno Il tuo difetto Eccetto tu Però gli altri comunque In tutti i casi Lo vedranno Quindi Meglio essere autentici E poter relazionarsi In un modo autentico Ok Ho questi pregi Ho questi difetti Sto lavorando su queste cose E quest'altro Non a tutti potrai raccontare Su cosa stai lavorando Ovvio Però A chi puoi Lo farai Numero 6 La dislessia delle mani Numero 6 Il lavoro Quando le persone Vengono da te Comunque Tu Li fai lavorare Li fai lavorare In silenzio Con rispetto Però Loro devono lavorare Io per esempio Cioè contando Il mio tempo Prezioso Se io capisco Che una persona Ha solo voglia Di perdere il mio tempo A un certo punto Io dico Guarda Cioè Ti voglio bene Però Non prendere il tempo mio Perché o cresciamo O questa relazione È di crescita O io Non Non Cioè Cosa sto qui a fare A perdere il mio tempo Preferisco di investire In qualcuno Che ha voglia Di lavorare su se stesso E diventare Un cristiano migliore Però sempre Nel dialogo E nell'amore Numero 7 Ed è il penultimo Il non giudizio Ci deve essere Da parte nostra Luca 6 37 Dice Non giudicate Non sarete giudicati Non condannate Non sarete condannate Perdonate Vi sarà perdonato Non ci dobbiamo Chi giudica Si mette in cattedra Si reputa meglio Degli altri Dice Ah Cioè Sentenza Con il suo piccolo bastone No Il suo bastone spirituale E fa solo danni Questa è la verità Guardate che bello Guarda Cicerone Dice La gente Giudica Poco Secondo la verità Molto Secondo le opinioni No no Un applauso a Cicerone La gente Giudica Poco Secondo la verità E molto Secondo le opinioni E questa E questa E noi Noi non siamo chiamati Ad avere la nostra opinione Ah ma sai che Ah Cioè No guarda Non voglio neanche fare esempi Perché Ne abbiamo viste Passare così tanti In questi 18 anni Che poco Cioè Anche del pastore Roslaine Gli hanno dette Di ogni Tutto Tutto Gli hanno detto Di tutto Grazie a Dio Che li scivola Come l'acqua Però Veramente Noi non Quando ci viene Una persona davanti Ma perché Giudicarla Ma tu non sai Neanche cosa La persona Ha vissuto Ok Secondo punto A nessuno piace Chi giudica Ok Guardate questo Confucio E non faremo Un applauso a Confucio Confucio L'uomo superbo Si pone Sopra gli altri E crede Che gli si debba Ogni cosa Gli altri Per il contrario Lo mettono Nell'ultimo Gradono E non gli concedono Nulla Lo rileggo L'uomo superbo Si pone Alli sopra Degli altri E crede Che gli si debba Ogni cosa Gli altri Invece Per il contrario Quando si relazionano A lui Lo mettono Nell'ultimo gradino E non gli concedono Nulla Ok E questo Noi perderemo I cuori Delle persone Se le giudichiamo Se ci mettiamo In cattedra Nei loro confronti Tre Mettiti Nelle sue scarpe E poi capirai L'uomo Ti Da Campis Dice questo L'uomo Vede in superficie Dio invece Vede nel cuore L'uomo Guarda le azioni esterne Dio invece Guarda le intenzioni Allora Una Chiave È Mettiti Nei suoi panni Passa Incomincia la vita Come l'ha incominciata lui Prosegui la vita Come l'ha proseguita lui E oggi voglio vedere Se tu lo giudichi Ma lo voglio Vedere E sto parlando Anche di persone Che potenzialmente Possono avere commesso I reati peggiori Allora Fai la sua vita E poi voglio vedere Se tu avresti fatto Delle scelte diverse Ok Questo è il principio Del giudizio E per ultimo Sul giudizio Guardare con gli occhi Dell'amore L'amore copre Una moltitudine Di peccati Dice in primo Pietro 4.8 E per finire Come Cosa che non può mancare Questa è proprio Spero che becchi tutti La correttezza La correttezza È profondamente Spirituale Perché se tu dici Ti chiamerò Numedì Tu Numedì Devi chiamare Le persone corrette Il mondo è diviso Il mondo è diviso Fra i costanti E gli incostanti Fra i corretti E i non corretti Abbiamo delle teorie Allora In Matteo 5.37 Ma il vostro parlare Sia Sì Sì Non ho Poiché Più viene dal maligno E con questo concludo La correttezza Deve essere Ed è profondamente Spirituale Alla base di tutto Alla base di tutto Tu dai una parola La tua parola Deve contare Se no vale zero Quando poi Tu gli dirai Ti chiamo Numedì Sai la persona Cosa penserà Tanto non mi chiamo Ti richiamo Richiama Ti dico Fallo Ti prometto Addempi La tua correttezza Metterà la base Della fiducia Nel rapporto Che tu hai Con l'altra persona Questo conclude Però Restate fermi Chiudi pure La registrazione